Grazie Presidente, vorrei aggiungere veramente poco rispetto all'ottimo intervento della consigliera Zotta ed è questo, il concetto del plastic free è una sintesi, è un'idea è un'idea che si sta diffondendo all'interno, in Italia, lanciata dal Ministro Costa ma come ha giustamente detto in parte del suo intervento il consigliere De Priamo questa idea ci vorranno decenni per attuarla e allora perché ci dite a noi che nell'arco di tre mesi dovremmo attuare la delibera che abbiamo appena approvato prima dell'estate sul plastic free è ovvio che dobbiamo mettere in campo delle azioni ma sono delle azioni che vanno proprio nel senso educativo il merito di questa delibera è quella di entrare nello specifico, di un qualcosa che entra più nel dettaglio ovvero che vuole coinvolgere gli studenti, i ragazzi all'educazione dell'eliminazione della plastica per questo è ovvio che la maggioranza, io sono tra l'altro uno dei firmatari ma una proposta presentata dalla Presidente Zotta a cui ho aderito molto volentieri questa è una delibera che deve dare un'idea, un percorso ed è per questo che questa maggioranza voterà favorevolmente a questa proposta al di là delle strumentalizzazioni grazie